E' uno dei primi ITS nati sui Monti Dauni e il corso ITS tecnico superiore nella valorizzazione dei prodotti locali di qualità che ha sede a Troia. Il debutto questa mattina con l'avvio delle attività didattiche presso i locali del centro del gusto dei Monti Dauni, ad inaugurare la nuova scuola il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri e il presidente del Galmeri Dauni Alberto Casoria. Io penso che per il nostro territorio questo sia importantissimo perché comunque formare 20-25 giovani sia dal punto di vista delle istruzioni ma anche dal punto di vista imprenditoriale penso che sia fondamentale per lo sviluppo e per la crescita del nostro territorio. Ma la cosa importante è vedere il volto di tanti ragazzi che stamattina qui hanno tutti quanti testimoniato la volontà di poter imparare per fare qualcosa che li aiuta a rimanere su questo territorio. Il percorso biennale di istruzione tecnica superiore è di complessive 1800 ore tra lezioni in aula e stagio aziendali. 23 ragazzi iscritti che già questa mattina hanno iniziato le attività in aula. Mi chiamo Francesco, vengo da Buccino e Bremenge di Salerno e ho scelto ITS perché credo sia il migliore futuro per me e per il mio territorio. Sono Francesca Laratro, vengo da Foggia e ho scelto di frequentare il corso ITS per la promozione e la valorizzazione dei prodotti locali perché l'intento è quello di innanzitutto diventare un'imprenditrice, quindi sviluppo al lavoro, la conoscenza dei prodotti locali e creare quindi un qualcosa che possa divulgare e promuovere il territorio. Mi chiamo Vincenza Ciaro, vengo da Troia e ho scelto ITS perché mi dà sicuramente gli strumenti per poter promuovere uno dei prodotti tipici del territorio, quale possa essere per esempio il nero di Troia. Grazie. 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 Grazie.